Cos'è il risorgimento? Dopo il congresso di Vienna 1814-1815 l'Italia era divisa in tanti piccoli stati. Il periodo in cui l'Italia conquista la sua unità nazionale si chiama risorgimento. Il 17 marzo 1861 nasce il Regno d'Italia. L'Italia nasce come stato. Inizialmente abbiamo una monarchia. Il 17 marzo 1861 il Regno di Sardegna fa nascere il nuovo Stato italiano che riunisce sotto un'unica corona tutti i stati nati dopo il congresso di Vienna. Grazie per la visione! Ciao al prossimo video! Vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!